Alessandro Polcri, sindaco di Anghiari, alle premiazioni del torneo giovanile città di Anghiari, tanti ragazzi, tanti giovani, sicuramente una presenza molto gradita. Sì, ringrazio tutti i presenti, per me è un'emozione vedere questi ragazzi che con tanto animo, con tanta volontà, con tanta denizione si mettono in gioco. Io vedo delle famiglie che dagli spalti incitano i propri ragazzi, questa è una cosa emozionante per tutti, dunque con la vivacità di Anghiari la nostra comunità è sempre viva. E dunque un bellissimo ringraziamento a tutti gli organizzatori che lo voglio dire in modo volontario e libero organizzano dei eventi come questi. Tra l'altro anche la prima premiazione effettuata da sindaco? Sì, questa è la mia prima premiazione, nel senso che io non avevo mai fatto una premiazione del genere, dunque per me è un'emozione doppia vedere questi ragazzi che dal più piccolo al più grande si emozionano insieme a me. Una battaglia positiva, io la vedo sempre, la competizione in questo caso fa sempre bene, nel calcio lo si fa con lealtà, dunque è bene premiare questi ragazzi.